Come si dice in questi casi, altri 50 di questi anni? Certo, e perché porre un limite? Ex allievi, ex docenti, attuali studenti e famiglie, 50 anni di ricordi, i 50 anni dell'Istituto Romanazzi di Bari. Dalle prime lezioni di stenografia ed economia del 1960 ad oggi ne è passato di tempo. Anni in cui si sono formati molti manager e professionisti a livello nazionale ed internazionale. Un istituto, il secondo nato a Bari negli anni 60, che ha contribuito alla crescita e alla formazione delle passate ed attuali generazioni. Una giornata in cui si sono ritrovati a Villa Romanazzi Carducci per scambiarsi emozioni e ricordi. A partire proprio dagli anni della nascita dell'Istituto, primo ad avere l'indirizzo di ragionieri programmatori. Poi la nascita di un nuovo indirizzo negli anni 70 di perito aziendale e corrispondente lingua estere. E ancora la prima rete telematica negli anni 80 e i vari riconoscimenti a livello europeo. Significa proprio tessere il filo del ricordo. Noi abbiamo voluto diffondere tra tutti i ex docenti, quelli ancora in vita ed ex studenti, l'idea di questa appartenenza a questo istituto che ha dato alla città tante generazioni di professionisti affermati. Grazie.